cari figli sono stata scelta per essere madre di dio e vostra madre per decisione e amore del signore ma anche per mia volontà per mio amore illimitato verso il padre celeste e mia totale fiducia in lui il mio corpo è stato il calice del dio uomo sono stata al servizio della verità dell'amore e della salvezza così come le sono adesso in mezzo a voi per invitarvi figli miei apostoli del mio amore ad essere portatori della verità per invitarvi per mezzo della vostra volontà e dell'amore verso mio figlio a diffondere le sue parole parole di salvezza e per mostrare con i vostri gesti a tutti coloro che non hanno conosciuto mio figlio il suo amore la forza la troverete nell'eucarestia mio figlio che vi nutre col suo corpo e vi rafforza col suo sangue figli miei unite le mani in preghiera e guardate verso la croce in silenzio in questo modo troverete la fede affinché possiate diffonderla troverete la verità affinché possiate distinguerla troverete l'amore affinché possiate capire come amare realmente figli miei apostoli del mio amore unite le mani in preghiera e guardate verso la croce solo nella croce c'è la salvezza vi ringrazio grazie 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 grazie